Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Vi chiedo scusa se alcuni video che state vedendo magari non mi vedete così solare, splendente o attiva come in altri momenti. Soltanto che ci sono alcuni momenti, alcune situazioni nelle quali io mi sento un po'... Magari sono un po' giù, non sono proprio super attiva, sto passando un periodo molto difficile nella mia vita e quindi magari questo si può vedere nei video. Di sicuro non sono un robot e quindi non faccio dei video falsati, cioè sono io e quindi sono me stessa al 100% e quindi dovete portare pazienza sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto. Però fa parte del gioco, fa parte della vita, anche se in questo momento io non sono felice, sono molto triste, mi fa stare bene a registrare i video, anche se io continuo a pensare nella mia testa che non li guardi nessuno ma qualcuno li guarda perché lo so. Però io non riesco ancora a percepire questa cosa ed è molto strano per me e quindi per un insieme di motivi per me tutta questa cosa è molto strano diciamo così. Comunque, detto questo oggi sono qui per filmarvi una tipologia, una categoria di video che è quella Format. Per chi non lo sapesse Format è una rubrica, una serie di episodi nel mio canale dove io parlo di una qualsiasi cosa, persona, evento, fenomeno eccetera eccetera cosa. E ne traiamo ispirazione, c'era una super ape che per fortuna la finestra è chiusa perché stava per entrare. E questo lo faccio non perché queste persone o cose, cioè tra abbiano bisogno di me, perché come vi dicevo per Leonardo DiCaprio non c'è sicuramente bisogno nel mondo che io faccia un video per lui, e cioè non abbiano sicuramente bisogno di me nella sua vita, ma sono delle persone che io vi porto in generale che secondo me è importante spenderci alcuni istanti perché ne vale la pena. E l'altra volta per esempio una mia amica mi ha detto ma chi è Elena Wanchale? Appunto lei non lo conosceva, però per me è una persona molto speciale, molto importante e quindi ci tengo che alcune cose vengano date per assodate. Questo non è soltanto un canale di contenuti, un canale smr, un canale di vlog, in questo canale c'è molto di più che spero traspaia dai video, che spero si noti, ma non è detto che tutti lo notino e non è detto che sia proprio una cosa così semplice, chiara diciamo, però io cerco di fare insomma anche del mio meglio, quindi in realtà relativamente parlo a una fotocamera, ma poi magari questo video qualcuno lo vedrà. E nel video di oggi sono qui per parlarvi, come probabilmente avrete già capito dal titolo, di Michele Bravi. Michele Bravi sarà il protagonista e un po' la ruota principale per questo video. Oggi ho deciso di registrare un video, di filmare un video e di parlarvi di Michele Bravi. Che cosa c'è? Cosa ho da raccontarvi? Cosa potete sapere di lui? Cioè, Anna, che cosa ti passa? Che cosa ti gira per la testa? Allora, lui è un ragazzo molto semplice, molto umile, è un cantautore italiano ed è una persona che ho scoperto anni fa, credo, con la canzone Il Diario degli Errori, ma non ne sono sicura. Secondo me è importante che voi sappiate qualcosa in più anche di questa persona perché da tanto è molto umile e molto, molto profonda come persona, non è per nulla superficiale. Mi sembra un po' di anni fa ha fatto un incidente, non mi ricordo le dinamiche, eccetera, magari se lo trovo ve ne posso anche parlare. Questo l'ha segnato profondamente e la musica, come si sa, è sempre stata una sorta di sua ancora di salvezza, ecco. Ma in generale anche, vi ho già fatto dei video, uno si chiama Frammenti di Musica, cercate Frammenti di Musica, Nina lo trovate su YouTube. La musica è sempre stata un qualcosa di molto speciale, molto importante. Quando io vi parlo di Ermal Meta, quando io vi parlo di Irama, quando io vi parlo di alcune persone, lo faccio per farvi capire che sono tutte collegate tramite il cinema, il teatro, la recitazione, la musica, il canto, la danza, il ballo. Cioè, ci sono tante cose, tanti aspetti, capito, da prendere in considerazione in questi video che io faccio a video format. Non soltanto il momento nel quale io mi metto qui e vi parlo di una persona, ok? Tra l'altro mi fa ridere perché non so cosa voi pensate dall'altra parte, ma io non ho un copione. Io ho il cavalletto, la luce, la fotocamera, il cellulare di mia mamma per leggervi le informazioni di Michele. E sono venuta in questa stanza sapendo soltanto che dovevo parlare di Michele Bravi perché era un'idea per questo video, ma non ho altro, quindi mi fa strano ridere questa cosa perché, appunto, è un po' strano. Però è andata veramente così. A parte i miei pensieri, e penso si sia anche un po' già capito dal video, direi di andare a vedere qualcosa in più su Michele. Tanto di Draghetto Felice, lui, dalla faccia. Comunque ci sono due cose, tipo un cartone dei conigli di quando ero piccola e un film tipo di un drago, di una bambina. Vi giuro se li trovo, vi faccio sapere, ve ne parlo, non lo so perché... Comunque avete notato quanto sono bianca? Che bel colorito che ho nella pelle, in questo momento ho soltanto il mascara e il gel trasparente per le sopracciglia. Quindi non ho nulla bellissima, sono proprio... In ogni video che mi vedete sono sempre più bella, vero? Allora, Michele Bravi, Città di Castello... No, raga, questo mi è troppo familiare, ma... Umbria, ecco, l'avevo già sentito. Città di Castello ha 26 anni, cantautore italiano vincitore della settima edizione di X-Factor. Non lo sapevo questo, ma a parte questo, cioè, lui è noto e ha molta fama, non soltanto per questa vincita. Cioè, io credo che alcune persone, indipendentemente dalle loro vincite o dai loro successi, siano delle icone a prescindere. E questo spero che, insomma, lo capiate anche voi dai miei video, insomma. Cioè, spero che date importanza un po' anche a quello che io cerco di fare, perché non è semplice. E ci metto l'anima e tutto il mio cuore, però poi ci sta anche una parte vostra, oltre che a io dall'altra parte. Sto dando una letta veloce, però parla della sua passione per la musica. Sin da piccolo alcune cose che sì sono importanti, ma relativamente in questo momento non ci interessano, perché io volevo soffermarmi su un qualcosa di più importante e significativo. Comunque a una certa poi parlava anche del fatto che fosse capitanato da Morgan e ci dice che ha partecipato a Sanremo con un brano che tanti di voi conoscono, che è appunto Il Diario degli Errori, quindi penso che non ci sia altro da sapere. E poi ha tantissimi, tantissimi, tantissime canzoni, tantissimi album che lui ha scritto, quindi penso che voi lo sappiate. Eccolo qui, sono riuscita a trovarlo e questo ve lo voglio leggere. Il 22 novembre del 2018 a Milano il cantante rimase coinvolto in un incidente stradale che causò la morte di una motociclista di 58 anni. A seguito dell'evento, gli impegni previsti del cantante vennero annullati. Secondo le indagini preliminari, Bravi effettuò un'inversione vietata per rimettersi in una via nel senso di marcia opposto. Venne quindi accusato di omicidio stradale e rinviato a giudizio nel luglio 2019. Nel corso dell'udienza preliminare del 23 gennaio 2020, e il cantante fece richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casello giudiziale. Richiesta accettata dal GUP di Milano nel successivo mese di luglio. Allora non ci capisco niente tutti questi processi, queste cose, però mi ricordo e me lo ricordo benissimo che lui ha fatto questo incidente stradale. Non volevo dire fischi per fiaschi, ma ora che ne sono sicura appunto ricordavo appunto anche molto bene dove era stata coinvolta una ragazza, insomma una persona, e lui non avete idea di quanto è stato male. Io ho guardato tantissime delle sue interviste, l'ho seguito molto in quel periodo, e insomma lui ha fatto questo incidente, è morta questa ragazza, ci sono tanti aspetti dietro, tralasciando la musica e tralasciando anche la sua sensibilità, provate a sentire, provate a immaginare anche soltanto cosa può aver passato Michele, come può essere stato tanto, 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 tanto. Vabbè, era una cosa che ci tenevo a dirvi. Abbiamo un giorno in più del 2014 di Michele Bravi, un brano molto molto bello, Il diaro degli errori solo per un po', Nei robali, La vita breve dei coriandoli, Mantieni il braccio, Falene. Insomma abbiamo tante cose, lui ha fatto poi tante collaborazioni, compilation, tournée, programmi televisivi, abbiamo tanto, tanto di lui. Se vogliamo vedere i riconoscimenti, vincitore della settima edizione di X Factor, premio Best Performance con il brano Un giorno in più, premio Best Performance con Solo per un po', premio Singolo Platino per il brano Il diario degli errori, premio Lunezia, credo, per il brano La vita breve dei coriandoli. Cioè lui è un personaggio, è una persona molto speciale, molto importante. Vi ricordo ancora una volta perché io faccio questi video, perché magari perdo un pomeriggio, mezz'ora, un'ora a registrarvi questo video, e poi magari a farvi uscire un video dove semplicemente ho parlato di una persona, vi ho raccontato alcune cose, anche magari, perché no, speciali, importanti, significative della sua vita. Perché penso che siano delle persone che ti toccano il cuore, di cui è importante sapere l'esistenza, sapere quello che hanno fatto, essergli vicino, ascoltare le loro opere, la loro musica, i loro film, la loro danza, qualsiasi cosa sia poi in merito alla persona o alla cosa o quello che vi sto dicendo. Format è una tipologia di video molto intima e speciale, e chi la guarda ha un privilegio, ha una possibilità di vedere anche questa categoria di video, che sono molto molto speciali. Io, fossi in voi, apprezzerei tutto questo e sarei molto onorata e fiera. Poi, chi ha un grande cuore, so che saprà apprezzare quello che io faccio e quello che vi ho detto oggi. Grazie per aver visto questo video, grazie per essere stati con me. Scusate se non sto molto bene, però comunque cerco di fare video perché è una mia passione, mi fa stare bene. Voi mi fate stare molto bene. Grazie di tutto, ci vediamo domani. Un bacione. Ciao!